L'Inter ha dominato per 70 minuti e si vede dagli highlights, si vede da tutto, da chi ha visto la partita e quant'altro Purtroppo, o per fortuna, dipende dalle fedi calcistiche, ovviamente l'Inter non ha chiuso la partita E questo era successo, aspetta Godazzo, era successo anche nella Supercoppa contro la Juve Che l'Inter aveva dominato 70 minuti, ma era sotto, 1-0